ciao a tutti oggi prepareremo la confettura di kiwi il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono kiwi maduri sbucciati e tagliati succo di limone e zucchero diamo il via la ricetta stiamo all'interno del boccale i kiwi lo zucchero e il succo di limone chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino posizioneremo il cestello per evitare gli schizzi e facciamo cuocere per 40 minuti temperatura varoma velocità 2 andiamo a verificare la confettura la confettura è pronta si vede anche dalla consistenza se dovesse risultare liquida che a volte potrebbe essere conseguenza del tipo del kiwi stesso prolungare la cottura per altri dieci minuti andiamo a riempire dei barattoli che abbiamo precedentemente sterilizzato confettura di kiwi ricordiamo che per effettuare l'effetto sotto vuoto bisogna farla raffreddare del tutto posizionandola a testi in giù e rigirarlo solo quando si sarà raffreddato del tutto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti